ciao a tutti siamo sempre sul set del nuovo spot di vodafone con lorenzo ciao lorenzo ciao con lui parleremo della produzione la produzione di uno spot televisivo è sempre un evento importante dove siamo quali saranno le location che cosa è stato creato allora giriamo quattro giorni a milano e siamo in questo momento in corso garibaldi di fronte al negozio vodafone abbiamo girato a torino abbiamo girato a milano all'hotel moschino e domani chiudiamo a gallarati sono quattro giorni di shooting piuttosto movimentati tante comparse scene di massa film molto divertente da fare senti le comparse sono tante quanti sono più o meno c'è proprio una folla di gruppi e poi il team che lavora a questo film da quante persone è composto dacci un'idea di quante quindi quanti tutto lavoro che c'è di orse tante risorse grazie a vodafone per fa dei film che sono sempre molto ricchi abbiamo una media di 200 comparsa al giorno e la truppa è composta da una cinquantina di persone più o meno un regista che arriva da new york un direttore della fotografia che arriva da londra e cerchiamo di dare il massimo della qualità e soddisfare il nostro cliente preferito il mio quanto meno senti da quando avete iniziato a ideare e progettare pianificare questo lavoro i tempi sono sempre molto compressi abbiamo circa tre settimane di lavoro alle spalle per fare questa produzione manca ancora qualche giorno sono i più importanti grazie mille buon lavoro grazie mille a voi buon lavoro il tempo è bello e manca un giorno ancora domani e poi abbiamo finito un boccaletto in onda grazie mille crepi grazie mille a voi